Queste informazioni che derivano dalla medicina quantistica, a cosa vi servono? E qual è il vantaggio che noi pazienti possiamo trarne? Siamo in un'area di grande integrazione di questo aspetto. Ogni singolo aspetto può essere affiancato dalla medicina quantistica. Di fatto la cellula è in grado di ascoltare sia un segnale di una molecola, in questo caso di reagire a quella molecola che gli arriva, e di ascoltare un campo elettromagnetico. Abbiamo questo dato molto chiaro e pertanto ogni tipo di processo può essere gestito. È chiaro che siamo all'alba di un'era nella ricerca, quindi non possiamo nemmeno parlare di cose che non sono state scoperte, ma la direzione è quella per cui la nutrizione e ogni aspetto della molecola vengano integrati dall'aspetto dell'informazione.